Per parlare del cosiddetto Medio Oriente bisogna risalire a ormai un secolo fa, gli anni della formazione prima di tutto dello Stato turco che vedono il primo genocidio del secolo scorso che ha ancora delle conseguenze per quanto riguarda quell'area geografica e non solo, cioè il genocidio del popolo armeno. Gli armeni che vivevano una parte della Turchia sono costretti coloro che resistono al massacro perpetuato dai giovani turchi a fuggire dai luoghi d'origine e a stabilirsi nel vasto Medio Oriente e poi nell'universo mondo. Il secondo fattore è quello della formazione dello Stato di Israele, c'è un focolaio ebraico in Palestina che si muove circa una sospinta del movimento sionista e degli interessi dei paesi come Francia e Inghilterra un secolo fa, cosa che si concretizza nel 1948 e che porta a un'altra diaspora nel mondo medio orientale. Questa volta l'oggetto dei massacri, degli spostamenti forzati e dei nuovi rinsediamenti sono i palestinesi, condizione che permane tuttora e che ha attraversato i conflitti che hanno caratterizzato tutto il mondo oriente. Questo per dire che se non si da memoria di quelli che sono questi macro fatti è difficile capire poi quello che succede alle popolazioni e alle minoranze etnico-religiose anche attualmente. Una seconda spiegazione storica fondamentale è quella che è stata l'assistemazione del cosiddetto Medio Oriente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Noi abbiamo a che fare con dei stati che non sono entità stato nazionali come si sono sviluppati in un occidente, in particolare in Europa, non perché questi non avessero una storia e una civiltà alle spalle, ma sono creazioni assolutamente artificiose di politici e geografici occidentali che come nel caso dell'Africa hanno segnato semplicemente le linee nel deserto come il nome di una famosa opera sul Medio Oriente. Questi stati poi hanno costruito un processo di decolonizzazione, nel senso che per venire all'Iraq da stato alleato del Regno Unito è diventato con la rivoluzione e la presa del potere del Baht uno stato che ha attraversato un processo di decolonizzazione, che ha avuto varie fasi che qui non ricordo. L'ultima fase, per tornare al nostro focus, è dopo più di un decennio di embargo, nel 2003, l'Iraq conosce un'invasione militare guidata dagli Stati Uniti e quindi smette di diventare uno stato sovrano. Questo ha voluto dire lo smembramento di quella che era comunque una creazione statuale artificiale in tre gruppi, seguendo un vecchio progetto sionista di divisione secondo linee etnico-confessionali. Questa è stata una decisione, anche questa presa a tavolino, che ha minato quello che era il crogiolo che c'era in questo stato qui e quindi la creazione di zone etnico-religiose, omogenee e impossibili di realizzarsi se non quello che abbiamo visto. Contemporaneamente l'occupazione anglo-americana, ma non solo, ha portato un profondo sconvolgimento di quello che era la società irachena, per certi versi facendola arretrare ad uno stato tribale, comunque da prima della formazione dello Stato-nazione. e questo è molto importante perché troviamo nell'Iraq odierno degli elementi della sua trasformazione fondamentali, della sua storia recente che comprende un periodo che va dal 2003 ad oggi. Il primo elemento è la divisione in patrie etnico-confessionali, che è un elemento di rottura con quella che è stata la storia irachena dalla sua decolonizzazione in poi. Due, abbiamo la diffusione di quello che in Occidente viene chiamato ISIS, in Arabo e Daesh, cioè di quella costola di un movimento islamico sunnita che si è sviluppato nella società araba nel corso degli ultimi anni. Io parto un po' da lontano per capire questa cosa qua. La società araba ha subito grandissime trasformazioni, una che pertiene al mondo delle comunicazioni con l'ingresso delle reti satellitari arabe. Questa avviene grazie ad Al Jazeera con la seconda intifada, intifada al-Aqsa, ormai più di 15 anni fa. Da allora tutto il mondo arabo e anche soprattutto le periferie europee hanno una percezione di quello che succede nel mondo arabo indiretta e attraverso questi vettori di informazioni. Il grosso investimento viene fatto dalle petromonarchie del Golfo, Qatar, Arabia Suddita e quant'altro, per cercare di dare un'interpretazione, una percezione dei fenomeni, condizionata poi in quello che sarà la politica estera che questi paesi intenderanno prendere. Quindi questa è una rivoluzione culturale importantissima. La seconda è la diffusione della rete, nel senso in società, prendiamo per esempio la Siria dove non esisteva la televisione, dove il mezzo di comunicazione a parte i giornali e alla radio, nella Siria pre-guerra civile la diffusione di Internet è stata fondamentale. La diffusione delle reti satellitari arabe e Internet è costituito una rivoluzione nella percezione dei fenomeni politici e sociali in tutto il Medio Oriente e non solo, delle persone di origine arabe o che parlano l'arabo, di tutta l'Occidente Europeo, ma non solo. E uno dei capisaldi della differente percezione è stata poi l'inglisione anglo-americana dell'Iraq, quindi che non è stata più a pannaggio solo dei media occidentali che riportavano la guerra, ma anche di quelli orientali. La società araba in generale ha conosciuto delle trasformazioni profonde che solitamente non vengono tenute in considerazione nell'elaborazione di un'analisi. Questa è la prima che ho voluto dire ed è quella più superficiale. Noi abbiamo due Stati, in particolare l'Arabia Saudita e il Car, che la rendita dovuta ai loro introiti petroliferi, perché sono petrolmonarchie, la indirizzano verso flussi di investimento e uno di questi è appunto la politica dell'informazione, un secondo molto importante è tutto il settore del real estate, cioè le costruzioni, che tra l'altro è stato uno dei settori chiave del sviluppo economico degli ultimi 15 anni, anche se è entrato in crisi, di cui forse l'espressione più visibile e conosciuta è la creazione ex Nilo di Dubai, ma sono state create tante varie Dubai in tutto il Medio Oriente. Il terzo è un investimento molto forte nella costruzione di moschee e di un welfare state legato alle moschee in tutto il mondo arabo, soprattutto nelle società laiche e secolari, o che avevano conosciuto come dato proprio delle varie rivoluzioni contro il colonialismo, l'affermazione di alcuni principi socialisteggianti di riforma della società. Ora, questa è una parte, l'altra parte è la crisi economica profonda che ha investito il mondo arabo nel ciclo del cosiddetto neoliberismo, abbiamo la formazione di sacche strutturali di povertà in economia che cambiano e anche lì dove c'erano state politiche protezioniste e di non apertura al mercato, questa cosa ha completamente sconvolto quello che erano equilibri che si erano creati. Quindi i tre fattori fondamentali per capire quello che poi si è sviluppato sono, uno, la guerra, che dal 2003 è di nuovo presente in quegli scenari, la crisi economica e in generale le velocissime trasformazioni sociali nella società araba e il ruolo geopolitico degli stati del Golfo e come hanno influenzato profondamente e in maniera radicale la percezione dei fenomeni politico-sociali anche al di là di quello che era il loro bacino di competenza, cioè le popolazioni che vivevano all'interno dei loro territori. I curdi sono una popolazione che vive in varie parti di quelli che poi sono diventati gli stati del Medio Oriente, cioè tra la Turchia, l'Iraq, l'Iran e la Siria principalmente. Vivono condizioni diverse perché i regimi politici in cui erano inseriti e il livello di organizzazione politico-sociale dei curdi era differente a seconda dei contesti. Questa differenza c'è tuttora. Per quanto riguarda l'Iraq, una parte consistente dell'Iraq è formata da una popolazione prevalentemente che è kurda o yazida. I yazidi sono quello che in maniera erocentrica potremmo definire una setta pre-islamica, cioè sono una popolazione che condividono un culto pre-islamico, che sono stati nel corso della storia soggetti a persecuzioni, quindi quelle che noi conosciamo attualmente, che abbiamo conosciuto almeno con il picco dello sviluppo di Daesh, in Iraq non sono che l'ultima tappa di un secolo di persecuzioni. Un particolare non molto noto che gli yazidi turchi sono interamente in Europa e circa un 40 mila vivono nella sola Germania. Quindi abbiamo come una serie di minoranze etnico-religiose che si rifugiavano nelle montagne o come è storia, diciamo così, in tutto il minoriente di queste minoranze, che vivono l'ultima tappa di quello che è un processo di persecuzione che ha attraversato il secolo scorso. Qui ricordo due esempi macro, sono il genocidio armenio, che è tutt'oggi un tabù per il governo turco e per gli stessi storici, e la questione palestinese, non solo perché ha disseminato palestinesi in tutto il Medio Oriente, ma perché per esempio i palestinesi che vivono in Iraq sono stati il primo oggetto degli sconvolgimenti dopo il 2003. La comunità palestinese era molto integrata all'interno dell'Iraq, cosa che poi non è successo più dal 2003 in poi. Quindi la questione di questi due popoli, solitamente gli azidi sono o hanno rapporti profondi con i kurdi, perché comunque è una storia simile alla storia che hanno vissuto all'interno di un percorso di persecuzioni, comunque contrasti, comunque una storia anche difficile da raccontare. L'ultima tappa di questo percorso è appunto il picco di espansione dell'Isis o i Daesh. Daesh ad un certo punto arriva ad un livello di espansione che minaccia quelli che sono i maggiori interessi petroliferi anche occidentali nella regione da un lato e la gestione di quello che erano stati i notabili post 2003 che erano stati messi a governare quella regione dell'Iraq. C'è una zona dell'Iraq che è stata oggetto di questa divisione etico-confessionale governata da formazioni politiche prettamente kurde. Sono state le formazioni che hanno tessuto un'alleanza con gli Stati Uniti e con l'America che nel corso dei vari passaggi di trasferimento dell'autorità locale godono di una relativa autonomia, sono regioni strategiche sia dove sono collocate a livello geografico, perché sono al confine tra la Turchia, la Siria e l'Iran, sia perché sono ricchi di petrolio. Quindi uno dei motivi principali, ma non solo, dell'occupazione anglo-americana dell'Iraq era all'accaparrarsi le riserve petrolifere irachene, perché l'Iraq era fondamentalmente un produttore di petrolio e di datteri e all'interno della politica di determinazione dei prezzi dava fastidio e all'interno della politica a stricto senso era un avversario di Israele in particolare e di altre realtà statuali. Quindi c'è questa regione particolare per la collocazione geopolitica e per le risorse economiche, è una popolazione che la abita, che divene a un certo punto suo malgrado soggetto di una guerra che non ha iniziato. Si crea quella che negli anni è venuta a chiamarsi crisi umanitaria. Daesh entra nei villaggi, fa questa politica di riconversione forzata, uccide le persone che non si convertono, tratta da schiave le donne sia per farne un business legato ai rapimenti e quindi ai risarcimenti o proprio delle schiavie sessuali. Quindi questo è il quadro. Di fronte a un occidente che incomincia a interessarsi della questione solo quando vede minacciati i suoi problemi. Noi stiamo diventando un'umanità che è un'umanità in cammino, nel senso perché basta leggersi le statistiche e ci accorgiamo di come i conflitti tra cui forse il più longevo e quello nel corno d'Africa producono una quantità di profughi. Noi di questo fenomeno abbiamo solo una piccola percezione rispetto alle persone che arrivano in Europa o meglio che passano per il filtro del Mediterraneo che è diventato un mare, un cimitero a cielo aperto o della rotta balcanica. Ora il fenomeno che noi viviamo è una frazione di quello che in realtà è il fenomeno migratorio dovuto non a ragioni economiche ma alla presenza della guerra. Presenza della guerra vuol dire tendenzialmente essere sradicati dal posto in cui si viveva, si lavorava e si aveva le proprie reti amicali, familiari per essere o profughi interni, diciamo così, displace people, internal displace people, all'interno dei confini dello stato o nazione di cui si era cittadini, oppure affollare in campi profughi che sono al di là dei confini. Dei profughi si occupa l'UNHCR per quanto riguarda i soddisfacimenti base e l'UNIFIL per quanto riguarda l'istruzione dei bambini. Questi campi variano molto a seconda del quadrante in cui si trovano all'interno del Medio Oriente, sono veri e proprie città in alcune case che hanno strutture minime, come semplicemente dei teloni offerti dall'UNHCR con un po' di acqua potabile e un sistema molto rudimentale di fogne fatti con del regno di risulta in altri casi. La guerra in Iraq già dal 2003 aveva creato un'emergenza profughi, ma ancora prima era stato il conflitto in Kuwait. Questa è l'ultima fase ed è un aspetto di un vasto campo di profughi che c'è in tutto il Medio Oriente, legato per esempio, basti pensare alla guerra in Siria, ora bisogna ricordare che ormai i siriani sono diventati un popolo di profughi, un quinto della popolazione siriana vive fuori da quello che era il suo habitat naturale e i campi profughi che sono i siriani sono presenti in tutto il Medio Oriente. Per quanto riguarda la condizione particolare dei campi profughi dei kurdi e degli azidi, le condizioni varrono molto a seconda se sono all'interno dell'Iraq e quindi nel territorio controllato dai kurdi stessi, piuttosto che si spostano ai confini turchi. Sono varie fasi, la prima fase è la fase della fuga e dell'aggregazione delle persone immediatamente fuori da quello che è una zona che viene percepita come pericolosa. In questo caso non si hanno strutture e le aiuti, diciamo così, sono confinati a una somministrazione del cibo e dell'acqua e ad un parziale trasporto e cura delle persone che soffrono. Questa fase qua è una fase assolutamente transitoria, dopodiché vi è una stabilizzazione, vengono attrezzate in dei perimetri, dei campi che danno ospitalità alle persone che vengono classificate come profughi. In tutto questo quello che emerge e che deve sempre essere considerato è che non si può immaginare uno spostamento ordinato in un contesto di guerra, ma sono persone che fuggono, che durante il tragitto perdono dei familiari per svariati motivi, solitamente le persone più deboli sono quelle che hanno la peggio, quindi gli anziani tendenzialmente, le donne soprattutto se poi da un certo momento in poi non hanno più il proprio compagno o il proprio marito e i bambini che non ce la fanno e quindi durante questo spostamento forzato dovuto, come nello specifico del caso degli azidi e di kurdi, all'invasione di Daesh, l'attacco ai villaggi e tutti i processi legati a questo sono spostamenti assolutamente che non hanno nessuna variabile che si può decidere. In un secondo momento l'ONU, l'ONACR, allestisce insieme alla cooperazione con ONG locali piuttosto che ai governi dei campi in cui queste persone vanno. I problemi permangono, non solo problemi, anche se si soddisfano i bisogni primari delle persone, naturalmente sono persone che sono completamente sradicate da quello che era il loro posto di vita, persone che a volte la retorica occidentale dipinge come popolazioni che anelano a venire in aeronopa a farsi una vita, in realtà il principale desiderio è ritornare nelle proprie case e riniziare una vita, esattamente come è successo da noi nella seconda guerra mondiale, gli sfollati, gli immigrati poi non desideravano di stare sfollati e immigrati a vita, ma di ritornare in quello che era un cumulo di macerie, rimboccarsi le maniche e iniziare una vita nuova lì dove vivevano e dove coltivavano le loro relazioni. Diciamo che gli avvenimenti hanno subito un'accelerazione con l'inizio della guerra civile seriana circa 5 anni fa, è una situazione come quella irachena che sembra lontana da una risoluzione e basta vedere un fatto di cronaca attuale per capire come siano interconnesse le dinamiche e contiguamente vicini i paesi. Mentre una coalizione di forze stava intervenendo nella parte orientale della città d'Aleppo, che è stato storicamente una roccaforte di quella che era la cosiddetta opposizione poi dei jihadisti in un secondo tempo, propriamente detti, un gruppo consistente di miliziani jihadisti proveniente da Musul, quindi dall'Iraq, si è raggruppato e ha lanciato un'offensiva contro Palmira, una città siriana che era stata liberata qualche tempo fa e quindi tutto lascia pensare che siamo in una fase del conflitto in cui l'Isis o Daesh non è stato sconfitto, se anche venisse sconfitto militarmente abbiamo un esercito di persone che dalla guerra in Afghanistan, parlo di quella che ha combattuto l'Unione Sovietica contro quella parte di militanti islamici che erano in Afghanistan, ha fatto sì che ci siano 25 anni in cui sono creati un esercito transnazionale e multinazionale e tutto quello che è l'indotto collegato a armi, famiglia e che agisce secondo gli interessi geopolitici, che fine faranno? Perché la povertà, l'emarginazione, le prevaricazioni in Medio Oriente non sono finite, stiamo accumulando della miseria a della miseria, basti vedere quello che è un qualsiasi campo profugo attualmente dove la maggior parte delle persone sono bambini in età scolare che non possono istruirsi se non molto banalmente e che nel migliore dei casi vengono costretti al lavoro quando non si prostituiscono. Allora il discorso è, se noi abbiamo in seno una società che produce queste spericuazioni, che non dà un futuro alle persone a cui ha fatto guerra e a cui qualcuno offre una soluzione in termini economici, politici e a livello di immaginario, questa guerra non finirà mai. bisogna incominciare prima di tutto a vedere come uscirne fuori. L'Occidente sembrava che dopo la varia serie di attentati che da Parigi a Bruxelles si sono succeduti negli ultimi tempi, avesse preso coscienza che aveva creato, co-creato un mostro che poi divenisse una specie di boomerang che si andava a infrangere anche contro nelle cittadelle occidentali. Quindi penso che sia un dovere civile e politico capire non solo come sconfiggere militarmente l'Isis, ma come cambiare la condizione di quelle popolazioni o quantomeno non interferire affinché poi facciamo i disastri di cui queste poi sono le conseguenze. Grazie a tutti.